Oggi 5 giugno ricorre il 206esimo anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri che per tradizione viene celebrato nello stesso giorno in cui nel 1920 fu concessa la prima medaglia d'oro al valore militare per l'eroica partecipazione dei carabinieri al primo conflitto mondiale. Quest'anno nel rispetto delle misure connesse con l'emergenza epidemiologica in tutta Italia le celebrazioni si sono svolte in forma ridotta. A Pesaro alla presenza del prefetto Vittorio Lapolla il colonnello Luciano Ricciardi comandante provinciale dei carabinieri hanno deposto una corona d'oro sulla lapida in memoria del carabiniere robusto Antonelli medaglia d'argento al valore militare caduto durante il primo conflitto mondiale a Gorizia per mano nemica. La commemorazione oltre che per ricordare i valori fondanti dell'istituzione è da sempre il momento per riconoscere il giusto merito agli uomini e alle donne in divisa per la detizione al sacrificio con cui hanno compiuto il proprio servizio svolgendo su tutto il territorio provinciale un'azione di prevenzione e contrasto delle varie forme di criminalità per garantire ai cittadini condizioni di sicurezza e di tranquillità. Dall'esame dei dati statistici riferiti al periodo 1 maggio 2019 30 aprile 2020 risulta che i carabinieri del comando provinciale hanno proceduto per 6.627 reati dei quali sono stati individuati gli autori in 1.516 casi traendone 226 in arresto e denunciando in stato di libertà altri 2.186. Sul fronte dei reati predatori i quali furti e rapine i dati riportano 2.739 i furti oggetto di indagini 230 dei quali scoperti con l'arresto di 68 persone e la denuncia in stato di libertà di altre 223 all'autorità giudiziaria. Durante il periodo del lockdown invece si sono verificati soltanto due furti in abitazione. Le attività svolte dei carabinieri forestali della provincia di Pesaro Urbino in ambito di utilizzo del territorio per attività produttive per quelle non produttive illeciti contro il patrimonio e contro l'ambiente compresi gli incendi sono state 23.915 controlli di questi contestati 591 violazioni e 63 reati. Inoltre a tutela della fauna sono stati svolti controlli sul maltrattamento degli animali e numerose verifiche sull'attività venatoria in relazione alla percezione di un'illegalità diffusa mentre relativamente alla tutela della flora sono stati svolti 3.663 controlli con l'accertamento di 74 illeciti amministrativi.